E come non si può parlare, parlando di questa categoria di persone, dei cosiddetti Vigili del Fuoco, i mitici Vigili del Fuoco? Avete sentito le notizie dei telegiornali, gli incendi e quant'altro. Vogliamo parlare di questa funzione sociale, di questa funzione aggregante anche tra lo Stato e il cittadino con il capo divertimento dei Vigili del Fuoco, la dottoressa Laura Lega. Bentrovata e benvenuta. L'altra estate, l'estate dei Vigili del Fuoco. Che cosa ci dice? Come la raccontiamo questa estate? Le cronache ci raccontano incendi, dolosi, non dolosi e quant'altro? Vigili del Fuoco in realtà non si fermano mai. Mai augurare buon lavoro ai Vigili del Fuoco. Anche il nostro Santo Padre recentemente in un incontro con il Corpo Nazionale l'ha sottolineato, per cui buon servizio, perché purtroppo le emergenze si susseguono, sono tanti in estate e in inverno. In estate assistiamo ovviamente a tutte quelle che sono le emergenze, le immagini che vediamo, che scorrono, sono proprio quelle degli incendi boschivi, che sono quelle che stanno interessando, che hanno interessato negli scorsi giorni soprattutto le aree del sud, ma in realtà gli incendi boschivi noi li abbiamo spesso in autunno anche al nord, in autunno e in inverno. E poi accanto a quello noi abbiamo emergenze meteo che si susseguono, ovviamente, che hanno investito negli scorsi giorni in maniera importante tutta l'Italia. E come si attrezzano i Vigili del Fuoco? Intanto noi siamo collegati con il direttore centrale emergenza, Vigili del Fuoco, che è l'ingegnere Marco Chimenti. Come si attrezzano? L'ingegnere Chimenti arriva a una telefonata. In un minuto ci può raccontare che cosa succede dal suo centro di emergenza? Buongiorno, buongiorno innanzitutto. Quando arriva la telefonata, e la telefonata arriva ad uno dei nostri cuori pulsanti, cioè una delle sale operative territoriali o fino alla sala operativa nazionale, che è quella da cui sto parlando, quando arriva la telefonata già comincia il soccorso, perché il richiedente comunque riceve dal nostro operatore tutte le prime indicazioni, che oltre a raccogliere i dati, la localizzazione, il tipo di emergenza, il nostro operatore dei Vigili del Fuoco, che si trova in sala operativa, fornisce già le prime indicazioni per poter dare delle... E quindi si mette in moto la macchina. Dottoressa Lega, lei ha dei dati che vuole raccontare ai nostri amici di uno. Sì, do solo un flash su quello che è l'impegno del Corpo Nazionale. In questi giorni, negli ultimi dieci giorni, dal 23 luglio, abbiamo avuto impiegate in tutta Italia, sia per gli eventi meteo, che per quelli degli incendi boschivi, oltre 22.500 uomini, più di 6.400 mezzi, oltre ovviamente all'impiego della flotta aerea dei Canadair. E sicuramente dobbiamo parlare di circa 16-17.000 eventi estremamente importanti. Ecco, ora abbiamo la linea a Tiberio, che sta parlando e parlerà di cucina. Lei ha qualcosa da dire sulla cucina? Dico bene e chiudiamo. Noi dobbiamo giocare una carta che è quella della prevenzione e farlo ovviamente cercando di calamitare l'attenzione di tutti, tutti i cittadini, perché la prevenzione è la vera carta vincente. Per fare questo abbiamo anche utilizzato il mezzo della cucina, il veicolo più facile che oggi raggiunge tutti, per garantire che ci siano sempre meno incidenti domestici. E quindi su questo, con alcune ricette scritte a Vigile del Fuoco, passano dei messaggi importanti, cosa fare e cosa non fare, ovviamente anche in casa, per evitare che ci possano essere incidenti gravi. Per chiudere, un suo saluto ai suoi uomini, se così si può dire, a cominciare dal comandante dei Vigili. L'augurio è che si lavori sempre più in prevenzione, meno in emergenza, che ci sia meno bisogno di intervenire in emergenza. Prevenzione significa anche attenzione ai nuovi vettori energetici. Stiamo lavorando per l'idrogeno, sull'elettrico, su tutte le sfide che abbiamo di fronte.